Comunque il verdetto del campo alla fine bisogna sempre accettarlo, per noi era un po' complicata perché comunque il campo non era in perfette condizioni e quindi abbiamo fatto un po' più fatica ad essere fluidi nel gioco. Il calcio però vi dà la possibilità di rifarvi subito mercoledì, la finale di Coppa è una partita importantissima che può regalarvi davvero un giorno storico, questo che è la prima volta in finale per voi. Primo obiettivo stagionale, vediamo chi la spunterà, faccio un bocca al lupo a tutti i partecipanti e ovviamente mi auguro di spuntarla a noi, ma questo poi è sempre il campo che lo deve decidere. Importante non è vincere, perché poi la prestazione nel complesso racchiude tantissime cose e quindi oggi noi abbiamo fatto la partita e dovevamo fare, l'abbiamo preparata così e dobbiamo continuare su questa strada perché insomma siamo sulla strada giusta. Mancano ancora tantissime partite, io credo che insomma c'è tempo. Domenica andremo lì ad affrontare un'altra grandissima squadra per questo campionato, però insomma noi dobbiamo andare a testa bassa, io ho detto ragazzi a testa bassa perché dobbiamo lavorare settimana dopo settimana, questa la dobbiamo archiviare subito, l'ho visto già catechizzata alla partita di domenica, quindi questo è importante. Mistero, un pronostico per Mercredi perché lo scalo si va a giocare la Coppa Italia contro un'altra squadra di Burtina come il Villalba? Le partite secche purtroppo sono sempre difficili da pronosticare, però io credo che insomma il mondo rotondo scalo solo meriti, perché sono due anni che lavorano. Grazie a tutti.